Non poteva praticare sport, non poteva frequentare gli amici e quando provava a lasciarlo scattava la violenza contro di lei e contro le persone che le erano vicino. Per questi motivi un ventenne di Campobasso dovrà rispondere del reato di atti persecutori e non potrà avvicinarsi all'ex fidanzata e ai luoghi da lei frequentati nei suoi confronti. Su proposta della procura di Campobasso, il giudice per le indagini preliminali del Tribunale di Campobasso ha emesso la misura cautelare che prevede il controllo tramite il braccialetto elettronico. Non ancora maggiorenne, la ragazza ha trovato il coraggio di lasciare l'ex fidanzato violento e di raccontare con grande sofferenza agli uomini della squadra mobile la violenza fisica e verbale subita. Racconti che hanno trovato riscontro nelle testimonianze dei familiari e degli amici della donna.